Amici telesmundiani bentornati, oggi in questo video vi parlerò del blog www.luigiladelfa.it Il mio blog è in netta crescita, lo gestisco da tantissimi anni, a volte mi fermo, non carico più news, altre volte carico news, adesso mi sono rimesso di nuovo a migliorare la grafica, ho fatto qualche ritocco, ho aggiunto delle categorie, ora vi farò vedere il blog e vi parlerò delle novità che saranno naturalmente positive anche per voi che mi seguivate, se avete idee nuove passatemi notizie e io li pubblicherò sul mio blog, sul mio blog oggi ho inserito la categoria politica, punterò sullo sport, punterò sullo sport anche perché ragazzi io sono uno sportivo, naturalmente punterò maggiormente alle notizie sportive, però inserirò qualche notizia di attualità, notizia di cronaca, di politica, però maggiormente noi punteremo sullo sport e soprattutto sull'armwesling, sul braccio di ferro. Allora, andiamo subito, vi farò vedere il sito, andiamo subito, guardate, questo è il mio blog, luigilalfa.it, news, deporte, attualità e cine, sport, attualità e cinema, vabbè, ho messo cinema, spettacolo, tantissime altre cose. Allora, qui ho news, politica, sport, armwesling, fight e calistenia. Fino ad ora ho messo, per esempio, l'armwesling e il braccio di ferro. E qua ci sono le news, tutte, sul braccio di ferro. Devon Larrat, Levan Sajinashvili, che ha aperto il suo canale YouTube. Allora ragazzi, io prevalentemente prevalentemente nel blog scriverò in spagnolo, ma voi potete usare il traduttore, il traduttore traduce in maniera perfetta tutte le news. Io prevalentemente pubblicherò notizie in spagnolo, però anche in italiano. Per esempio, sulla politica, oggi ho pubblicato tre video, l'avvocato polacco, un video, l'ultimo video che ha caricato su Facebook l'avvocato polacco, poi l'ultimo video che ha caricato su Facebook il generale Pappalardo, morti dopo il vaccino. È un grande scoop questo tipo, andatelo a vedere questo video. E poi un video anche dell'ingegner Carlo Negri. Non hanno voluto mettere per iscritto che la mascherina non è nociva. L'ingegner Carlo Negri che lotta da anni, da quasi un anno questa battaglia. E poi uno di Silver Nervuti, sono qui. E tantissimi altri. Allora, guardate un po', ho inserito qui la mia pagina dell'Arm Wrestling, la luce del brazzo in Gran Canaria. Io vivo alle Canarie, ho avviato un club di braccio di ferro qui alle Canarie, guardate, ho creato la mia pagina personale. Questa è l'intervista che mi hanno fatto la televisione Canaria, dove parlo del braccio di ferro. Questo è un, lo potete andare a vedere sul blog, un video, un collage, una compilation di tutti i video che ho fatto in quest'ultimo anno del braccio di ferro. E poi questo è un video di Gran Canaria. Di Gran Canaria. Allora, amici, queste qua sono le varie federazioni, la UAL, la UAF, le federazioni del braccio di ferro, federazioni mondiali, la UFSE e la federazione dell'MMA, del Fighting Champions League. Amici, nella categoria Fight metterò arti marziali, box, MMA, metterò tutte le notizie naturalmente inerenti alla lotta. Questa di qua, WebTV Telesmundo, se ne va su Telesmundo, sul canale che abbiamo su Speaker Web, guardate i vari video. Ora, sono un po' fermo, però a presto di tanto in tanto caricheremo video. Allora, stavo dicendo, Shop, metterò, ora vorrei aggiungere la categoria Friend o Partner. Salutiamo il nostro Partner, shoparmwesling.com. Amici dell'armwesling, braccio di ferristi italiani, andate su questo sito e guardate perché è un sito dedicato alle macchine per allenare il braccio di ferro. Guardate un po'. Andiamo sulla galleria. Queste sono delle attrezzature quelle che si usano per i braccio ferristi, per coloro i quali si allenano nel braccio di ferro. Guardate. Andiamo a negozio. Qui, per esempio, c'è questo tavolo che per il braccio di ferro è ideale. Allena tutte le varie, ad esempio il polso, la mano, qui c'è la carrucola. Ragazzi, guardate un po' questo sito. Se volete comprare un tavolo di braccio di ferro, lo potete comprare su questo sito. Se volete comprare i vari accessori, qui andate sul sito di shoparmwesling.com. Ritorniamo indietro. Allora, che stavo dicendo? Stavo dicendo che... Ritorniamo... Perché ho inserito la politica? Perché mi state tartassando, mi scrivete in tanti bug e fino a fatto il giornale Bob Palardo, l'ingegner Negri, eccetera, eccetera. E io, naturalmente, a poco a poco sto migliorando il blog e a poco a poco, avete visto, ho inserito la categoria politica. Voi mandatemi news, mandatemi news sull'email che vedrete sul blog. Andate sul blog e il blog, amici, è accessibile dai smartphone. Dai smartphone ha una visuale diversa rispetto a questa che state vedendo qui sul computer. Però potete navigare pure, ci sono le varie categorie, potete andare sulla categoria politica, news e guardare tutti i video che io di giorno in giorno carico, video o news o news. E mi raccomando, condividetele, condividetele come facevate un tempo fa, un tempo fa. Mandatemi, mandatemi qualsiasi tipo di news e io la valuterò e la pubblico sul blog. Amici, volevo fare questa notizia, vi saluto, alla prossima.